Noi abitiamo Cravanzana, uno dei paesi con più superficie coltivata a noccioletti. E' Alta Langa, è la zona più vocata effettivamente per questa produzione. Una nocciola che si può dire è la migliore del mondo, come gusto e come qualità sicuramente. Questa nocciola ha un sapore particolare proprio perché, innanzitutto perché in questa zona ha l'altitudine giusta, poi è influenzata anche dall'aria del mare, dal marino, come lo chiamiamo noi, e ha questo sapore che si differenzia da tutte le altre nocciole. Per qualità, per sapore, non so come dire, comunque è così. Partendo dalla lavorazione della nocciola si ottengono le torte, il prodotto tipico della nostra zona, nonché i baci di dama, nonché tutta una serie di pralineria a base di nocciola tostata, che possono essere guanite con cioccolato bianco, cioccolato fondente, zucchero, miele, o addirittura salate per i palati un po' più esigenti. Noi abbiamo condizioni di maturazione della nocciola differenti da ogni altra parte del Piemonte. Il segreto della nostra nocciola è il campo, è veramente la produzione, la pianta in sé, il nostro segreto. È la più buona perché abbiamo la fortuna di avere dei suoli speciali, un sacco di neve d'inverno, un buon sole d'estate e una pioggia che riesce ad alietare le nostre piante nei giusti periodi durante l'anno. Grazie a tutti!